Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Finalmente si conclude il progetto della provincia di Teramo, nato nel 1997, il ponte ciclopedonale del Vomano, l'ultimo della costa teramana, confluito nella Bike to Coast della regione Abruzzo. L'inaugurazione si terrà sabato 26, permetterà di rendere usufruibile una pista che attraversa tutta la costa abruzzese, lunga 133 km. Ho fatto quello che ci siamo detti prefissati dall'inizio, ecco l'ordinario di mettere a posto tantissime strade e di far ripartire una provincia che aveva le opere più importanti e bloccate. Una di queste era il ciclopedonale che era fermo per vari motivi, lo abbiamo promesso, lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto nel periodo peggiore della storia, con due anni di lockdown, con una guerra in corso. Ecco noi con una guerra in corso siamo riusciti anche a consegnare il ponte. Di questo siamo felici perché è un'opera che si attendeva tanti anni, un progetto anche di piste ciclabili che partiva da tantissimi anni, però ecco siamo arrivati. Questo è il messaggio più bello, ecco di dare risposta al territorio. Abbiamo collegato le sette sorelle, dico, da Martinsicuro a Silvi. Adesso cominceremo a collegare il mare con progetti che arriveranno fino alla montagna. Un'opera che potrà essere un volano turistico garantendo sicurezza a quanti circolano nelle strade, pedoni, ciclisti e automobilisti. Anche la FIAB esprime soddisfazione nel completamento del progetto. Ci sono tanti progetti di FIAB che vanno avanti, che abbiamo proposto a livello nazionale. Mi ricordo il piano nazionale per la mobilità ciclistica che è stato varato da poco, in cui c'è l'importante rete di Bici Italia, che è stata di FIAB, che è stata riconosciuta quale rete nazionale delle ciclovie. E la ciclovia adriatica è inserita quale prima ciclovia nazionale, quella che ha più finanziamenti. Quindi speriamo che questa ciclovia venga aperta quanto prima, che venga tutta aperta, perché ovviamente è già operativa in moltissimi tratti. Il ponte sul Vomano era uno degli annelli mancanti, come lo è anche quello sul Tronto. E speriamo che quanto prima si ponga fine a queste interruzioni.